Andremo a Pordenone per vincere la partita, non per spiccare un eventuale volo. Noi vogliamo andare a Pordenone per vincere la partita perché in questo momento penso che oltre alla classifica ci serve soprattutto per dare autostima, per credere in quello che facciamo, per compattare un gruppo completamente nuovo. Noi siamo concentrati non su Modena, su Pordenone, andiamo a affrontare una squadra forte dove l'anno scorso ha fatto la semifinale dei play-off, dove quest'anno sono arrivati tanti giocatori, quindi noi dobbiamo pensare a noi, non alla classifica, non in questo momento del campionato chiaramente, sapendo che servono le partite da impresa per fare punti in questo campionato e quindi lo spirito che mi piacerebbe vedere della squadra deve essere assolutamente quello di domenica scorsa con miglioramenti sotto l'aspetto tecnico, tattico, che sicuramente ci vogliono per ottenere punti. No, ma io non mi sento un ex, l'ho sentito scritto perché purtroppo quella parentesi è cominciata, non è neanche mai cominciata perché sin dall'inizio andai a parlare col presidente, lui dopo aver parlato con tante persone, dopo un quarto d'ora decise che ero io l'allenatore, poi ci furono tanti problemi da subito e infatti dopo pochissime partite finì il rapporto. Quindi sono stato lì, è stata una parentesi molto negativa professionalmente, ma sotto il profilo dell'esperienza molto utile e quindi come tutte le cose mi piace guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi è stata un'esperienza per la mia crescita positiva anche questa brevissima di Pordenone. Non cado nelle provocazioni, io penso che il modulo che abbiamo fatto col Bassano ci dia un po' più di compattezza rispetto a quello che avevamo fatto nelle partite precedenti e quindi pensiamo di continuare così, abbiamo valutato anche un'altra alternativa che non dico, se no capace me la fibbia al vicepresidente.